Chi è di voi era presente giovedì scorso? Alleluia, vi ricordate guardare il messaggio? No, che avete mangiato stamattina? Gloria a Dio! Abbiamo letto in Ecclesiaste capitolo 9 e abbiamo parlato che l'Ecclesiaste in questo verso ci consiglia e ci dice mangia il tuo pane con gioia bevi il tuo vino con gioia goditi la vita con tua moglie con gioia perché Dio ha già apprezzato le tue opere Amen! Gloria a Dio! Quanto è importante sapere che il Signore apprezza il nostro operato quanto è importante sapere che Lui ci stima che Lui apprezza il nostro stile di vita quanto è importante sapere che Dio ci approva gloria a Dio! I cristiani dovremmo vivere sempre nella consapevolezza azione dopo azione dovremmo sempre chiederci ma il Signore apprezza quello che sto facendo apprezza quello che sto dicendo apprezza il posto dove sto andando apprezza le persone che sto frequentando se la risposta è sì continua a farlo se hai qualche dubbio perché la tua coscienza incomincia a scricchiolare e allora cambia amicizie cambia azioni cambia il tuo modo di parlare cambia tutto ciò che non è secondo i principi di Dio perché noi vogliamo vivere attraverso un operato che è apprezzato da Dio ecco che i suoi figli possono godere la vita con gioia perché sanno che Dio ha già apprezzato il nostro operato abbiamo pure detto e non mi stanco di ripeterlo perché bisogna che noi comprendiamo come l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini quando disse voi siete salvati per grazia mediante la fede lo ripetiamo ancora una volta a scanso di equivoci non sono le opere che ci salvano voi siete salvati per grazia attraverso la fede e ciò non viene da voi non sono le vostre azioni che vi hanno salvato ciò non viene da voi ma è la grazia di Dio il Signore ha fatto grazia alla nostra vita e questo è il fondamento abbiamo posto un fondamento abbiamo posto una verità perché se non riusciamo a capire che non sono le opere a salvarci incomincieremo a operare a cercare di operare con ansia perché pensiamo è come se avessimo una scheda appunti è come se volessimo aggiungere qualche cosa vi ricordate quando il giovane ricco disse a Gesù cosa devo fare per essere salvato Gesù gli disse tu conosci i comandamenti sì io questi li ho fatti tutti era come se lui volesse ancora qualcosa per aggiungere qualche punto a quella scheda per avere la salvezza no no Gesù disse io conosco il tuo cuore tu hai un problema con le tue ricchezze va dalli ai poveri e avrai un'eredità nel cielo non c'è nulla che noi possiamo aggiungere alla grazia salvifica che il Signore ci ha dato attraverso Gesù Cristo attraverso il suo figliuolo attraverso quel sacrificio unico nella storia e se noi volessimo fare qualcosa da aggiungere automaticamente è come se mettessimo da parte la grazia è come se volessimo essere salvati attraverso la legge vi dico da subito che non ci riuscirai mai perché ognuno di noi ha bisogno della grazia salvifica del Signore per essere salvati ciò non toglie che pur essendo questo un fondamento l'Apostolo Giacomo ci ha insegnato che su questo fondamento possiamo costruirci sopra attraverso le nostre azioni attraverso le nostre opere attraverso come conduciamo la nostra vita e questo è importante perché perché la vita dei figliuoli di Dio si caratterizza per le proprie opere perché sono la conferma che quella fede che noi abbiamo riposto nel Signore è una fede vera è una fede attiva è una fede operante e quando il Signore dice vivi la tua vita con gioia perché Dio ha già apprezzato le tue opere significa che ciò che facciamo è importante è come se la salvezza attraverso la grazia fosse un fondamento e poi la vita dei figliuoli di Dio incominciamo a costruirci sopra la parola di Dio dice che possiamo costruire sul fondamento della fede della salvezza, della grazia possiamo costruire attraverso oro, argento o pietre preziose ma lo possiamo fare anche attraverso pieno, paglia e stoppia quindi noi dobbiamo stare attenti a come costruiamo su quel fondamento siete d'accordo con me? gloria a Dio perché le nostre opere potrebbero anche essere basate su un buon principio seguendo un principio di Dio ma tuttavia non essere fatti con un atteggiamento buono cioè un'opera che teoricamente è secondo il principio di Dio invece è sbagliata perché la facciamo con un atteggiamento sbagliato allora tutto ciò che è anche giusto fatto nella maniera sbagliata diventa sbagliato questa è la teoria e il Signore ogni volta che preparo un messaggio insieme alla teoria mi dà anche la pratica e voglio raccontarvi cosa è successo sabato mattina della scorsa settimana mia madre faceva il compleanno grazie a Dio, Dio la benedica compieva 87 anni lunedì 12 e quindi sabato sono andato a comprargli un regalo per conto mio e per conto di mia sorella ho comprato un pigiama entriamo nel particolare e in quella merceria oltre a comprare il regalo di mia madre ero con mia moglie abbiamo comprato tante altre cose che servivano per uso personale per la mia famiglia al momento di pagare è chiaro che non avevo fatto il conto di quanto veniva il tutto abbiamo pagato una certa cifra poi siamo andati via con la macchina ci siamo allontanati dalla merceria e poi realizzando che forse secondo me avevo pagato di meno abbiamo tirato fuori lo scontrino e realmente quel pigiama piuttosto di essere battuto per il prezzo che aveva la signora aveva soltanto battuto 5 euro ma non costava 5 euro e quindi in quel momento ci eravamo allontanati in quel momento vi dico che una vocina mi aveva suggerito vabbè sai che fai la differenza che non hai pagato l'indomani sarebbe stato domenica la metti nell'offerta è giusto offrire al signore vero? è un principio di Dio eppure quel principio di Dio non era la cosa giusta da fare perché poi se la vocina mi aveva suggerito di mettere il tutto nell'offerta una voce molto più potente mi disse dai a Cesare quello che è di Cesare e dai a Dio quello che è di Dio io domenico ho messo la mia offerta però alla prima occasione appena il negozio ha riaperto sono subito andato con lo scontrino e ho fatto vedere che c'era stato un danno allora quello subito ha visto perché pensava che il danno fosse a mio favore perché non è che tutti i giorni si incontra qualcuno che ritorna al negozio quando invece l'errore è a suo favore non ho detto guardi che l'errore è a suo favore l'errore è stato a suo sfavore è a mio favore io torno qui sa perché? perché voglio soltanto avere ciò che Dio provvede alla mia vita c'è qualcosa che il Signore, lo Spirito Santo attraverso la Sua parola attraverso quello che Lui mette nella nostra vita c'era qualcosa da fare bisognava ritornare e fare la cosa giusta ebbene la cosa giusta è offrire al Signore ma fatto nella maniera sbagliata sarebbe diventata la cosa sbagliata ecco perché dobbiamo stare attenti a come il Signore ci chiama ad operare se noi non conosciamo la parola di Dio possiamo essere tratti in inganno ma se noi conosciamo la parola di Dio ogni verso che noi conosciamo viene tirato fuori dal cassetto al momento opportuno e il Signore te lo presenta e poi noi diciamo avevamo questo discorso con Franco nella macchina e poi noi diciamo Signore ma tu come mi parli? ma perché parli ai miei fratelli e non parli a me? la realtà è ma noi conosciamo la parola di Dio perché il Signore ci parla attraverso la parola di Dio quel verso di dai a Cesare quello che è di Cesare dai a Dio quello che è di Dio è un verso che è venuto così prepotentemente alla mia mente che per me è stato così facile fare la cosa giusta perché il Signore aveva parlato alla mia vita attraverso la sua parola ecco che a volte dobbiamo stare attenti a fare le cose giuste malgrado forse possiamo pensare che sia un principio di Dio ma Dio ci chiama a fare la cosa giusta nel modo giusto perché vi ripeto fare la cosa giusta nella maniera sbagliata la fa diventare sbagliata e Gesù ci parla in un passo di scrittura che vi invito ad aprire che si trova nell'Evangelo di Matteo al capitolo 6 se io vi dicessi qual è l'azione per eccellenza la buona azione per eccellenza possiamo dire che fare l'elemosina prendersi cura di coloro che che non sono benestanti di coloro che hanno bisogno dare, offrire a qualcuno che si trova nella necessità perché magari non ha i mezzi di sostentamento fondamentali il Signore ci insegna a fare questa elemosina a offrire Amen però Gesù qui ci spiega che anche questo fatto nella maniera sbagliata diventa sbagliato Matteo capitolo 6 dice così guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati altrimenti non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli quando dunque fai l'elemosina non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoche e nelle strade per essere onorati dagli uomini in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio anzi quando tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra affinché la tua elemosina si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente alleluia è bello prendersi cura dei nostri fratelli delle nostre sorelle ma il Signore ci insegna anche qual è il modo per farlo in maniera corretta e qui la parola di Dio ci sta spiegando come non farlo ci sta spiegando come farlo e ci sta spiegando anche che farlo nella maniera giusta ne avremo una ricompensa parlavamo nella macchina e dicevamo proprio questo chi sarebbe quell'agricoltore che semina senza poi la fiducia di andare a mietere ognuno di noi sapendo di fare la cosa giusta sa che ne ha una ricompensa ma se dovessimo fare la cosa sbagliata la ricompensa sarà quella che ci siamo procurati con le nostre mani qui la parola di Dio è molto chiaro e ci dice prendi di cura dei poveri però farlo in maniera non eclatante non ti fare non suonare la tromba davanti a te non fare come gli ipocriti come i farisei che lo fanno per essere visti dagli uomini perché ti dico che facendolo con questo atteggiamento la ricompensa che ne avranno sarà proprio la lode degli uomini ma tu nel momento in cui invece pensi di fare del bene a qualcuno fallo in segreto fallo nel segreto del tuo cuore è Dio il Signore che legge nel segreto del tuo cuore sarà lui personalmente a darti la ricompensa questo è l'atteggiamento giusto ora questo fratelli non significa che non possiamo fare qualche cosa che è vista perché a volte noi facciamo del bene e quel bene si sa anzi la parola di Dio giovedì scorso dicevamo è così risplenda la tua gloria davanti agli uomini affinché vedano le due buone opere e diano gloria a Dio quindi il Signore non vieta che le nostre opere siano conosciute anche dagli altri ma vieta che le nostre opere siano fatte con lo scopo di essere conosciuti dagli altri vi faccio un esempio qui tante volte abbiamo pubblicizzato Compassion e molti di noi hanno anche dei bambini che adottano e questo si sa ma questo non significa che non lo dobbiamo fare allora dice non lo faccio perché non voglio che si sappia la parola di Dio mi dice che lo devo fare nel segreto e allora quelle cose che invece sono pubbliche e manifestate io non le faccio no non è questo il senso non dobbiamo fare quelle cose che facciamo per essere viste ma le cose viste le cose che danno gloria a Dio perché noi facciamo quelle cose che danno gloria a Dio noi facciamo quelle cose che il Signore tocca il nostro cuore affinché attraverso noi vengono benedette altre persone queste le possiamo fare vi faccio un altro esempio molti qualcuno nell'offrire al Signore la decima potrebbe anche utilizzare il metodo del bonifico e allora il bonifico si sa tu fai il bonifico alla comunità e lo fai perché c'è anche una finalità perché puoi scaricare nella dichiarazione dei redditi puoi scaricare quelle donazioni e il Signore lo sa e il tuo cuore lo sa la tua coscienza lo sa ma se qualcuno di noi facesse il bonifico delle offerte o delle decime affinché il pastore sapesse che noi diamo le nostre decime alla comunità tu hai già ricevuto il tuo premio che è quello della stima del pastore ma non riceverai il premio che viene direttamente dal cielo che viene direttamente dal Signore allora io ti consiglio tu conosci il tuo cuore il Signore lo conosce meglio di te ma tu conosci anche il tuo cuore se il tuo atteggiamento dovesse essere questo io ti consiglio di non fare più il bonifico di metterlo in una busta chiusa, sigillata senza nome, senza cognome e la domenica lo metti nell'offerta perché il Signore che legge nel segreto del tuo cuore te ne darà la ricompensa alleluia il Signore è chiaro non lascia margini a a qualche dubbio o fraintendimenti il Signore è chiaro il Signore è un Dio di cuori e tutto ciò che noi dobbiamo fare lo facciamo per Lui non lo facciamo per essere visti stasera c'è stato qualcuno che era di servizio chi era di servizio alza la mano gloria a Dio qualcuno che ha cantato chi ha cantato alza la mano qualcuno che ha suonato qualcuno che presiede qualcuno che predica abbiamo cantato tutto ciò che noi facciamo è nel nome di Gesù ogni cosa che noi facciamo è per dare gloria al nome di Gesù è guai a te se invece stai pensando di portare gloria al tuo nome guai a te non a me a me non togli nulla ma tu stai perdendo il premio che viene direttamente dal Signore perché chi semina mieterà perché questo è un principio di Dio e il Signore ci insegna e ci dice quando lo fai lascia che il tuo cuore sia coinvolto anzi dice la tua mano destra non sappia quello che fa la sinistra e la tua mano sinistra non sappia quello che fa la mano destra cosa significa questo? significa che quasi non lo dobbiamo fare sapere neanche a noi stessi oh hai fatto qualcosa di buono hai fatto la tua elemosina hai offerto qualcosa a qualcuno basta il tuo compito è finito non ti insuperbire non pensare che hai fatto qualche cosa di particolare perché hai fatto soltanto ciò che il Signore ha prodotto attraverso la sua grazia nella tua vita attraverso la sua grazia tu hai potuto realizzare che è bello il dare la parola di Dio dice che è più bello il dare piuttosto che il ricevere ma quando il dare diventa più bello del ricevere quando hai dato ed era il tuo cuore coinvolto quando hai dato e non ti aspetti neanche quasi un grazie e il grazie a volte viene dato per educazione questo è anche importante ma soprattutto la tua mano sinistra non sappia quello che fa la mano destra affinché il Signore colui che vede nel segreto del tuo cuore sarà lui personalmente a darti la ricompensa e adesso leggeremo se questo avviene a livello orizzontale perché avviene con i nostri fratelli e con le nostre sorelle quanto più il cuore deve essere coinvolto nella preghiera che è una relazione che tu hai direttamente con Dio è lo stesso principio e qui questo principio dice continuando a leggere dice quando tu preghi non essere come gli ipocriti perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoche e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini ecco lo stesso atteggiamento lo stesso atteggiamento di chi fa l'elemosina e fa suonare la tromba prima di fare l'elemosina anche a quel tempo c'erano coloro che pregavano per essere visti dagli uomini non era sincera la loro preghiera non era una preghiera che coinvolgeva direttamente Dio ma era una preghiera soltanto per buttare un poco di fumo agli occhi di coloro che ascoltavano queste parolone in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio non fare così adesso ci dice come fare ma tu quando preghi entra nella tua cameretta chiudi la porta e prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente anche qui c'è qualcosa da chiarire cosa significa tu entra nella tua cameretta adesso siamo qui insieme non è una cameretta segreta sta parlando della preghiera privata sta parlando dell'atteggiamento quando tu ti relazioni personalmente col Signore fallo perché il tuo cuore è coinvolto direttamente con lui è chiaro che noi stasera lo faremo pubblicamente ma anche facendolo pubblicamente c'è qualcosa da chiarire anche facendolo tutti insieme quello che deve essere coinvolto è sempre il nostro cuore quando noi ci rivolgiamo direttamente a Dio in preghiera in adorazione dobbiamo sapere che lui ci sta ascoltando e lui sta leggendo il nostro cuore e lui sa perché stiamo usando quelle parole e lui sa il numero delle parole e lui sa quello che stiamo per chiedere perché lui sa ogni cosa lui legge il nostro cuore e noi non possiamo nasconderci davanti a Dio ecco perché la nostra coscienza ci deve proibire di fare quelle cose che già prima del tempo sappiamo che Dio non apprezza perché non è necessario che immaginiamo qualche cosa non è necessario che diciamo ma il Signore sta apprezzando quello che io sto facendo sta apprezzando quello che io sto dicendo piuttosto di fare delle domande leggi la parola di Dio perché qui il Signore ci sta spiegando qual è l'atteggiamento del nostro cuore e come deve essere il nostro cuore nel momento in cui noi ci relazioniamo con lui in preghiera ma tu quando preghi entra nella tua cameretta segreta e chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente poi il verso 7 dice ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole anche qui c'è da chiedere qualcosa affinché nessun figliuolo di Dio sia frustrato nel pregare altrimenti qualcuno potrebbe dire ma quante parole posso usare ma quali parole posso dire o ripetere qui il Signore non ci sta dicendo di fare preghiere brevi o preghiere lunghe qui il Signore ci sta dicendo non pensare che il principio sia che il numero delle due parole lo possa convincere ad esaudirti più o meno qui il Signore ci sta dicendo anche perché ricordiamoci che Gesù passava le intere notti in preghiera col Padre Amen Anzi qui ci sta dicendo pregate perché i principi della parola di Dio sono questi non cessate mai di pregare ogni cosa che voi domandere dal Padre nel mio nome Dio ve la darà e pregate in ogni tempo anzi la condizione fondamentale è necessaria perché la parola di Dio ce lo insegna e che noi per ricevere dobbiamo chiedere e quindi il Signore cosa ci sta insegnando non pensare mai che sia il numero delle parole che possa convincere Dio a farti una grazia a elargirti qualcosa piuttosto che di no non pensare che sei tu a convincerlo attraverso le tue parole ma sia il tuo atteggiamento un atteggiamento di adorazione perché nel momento in cui noi adoriamo il Signore è lì già il nostro premio la nostra liberazione la nostra guarigione a volte non è neanche necessario che noi chiediamo perché adesso lo leggeremo perché il Signore conosce già prima che noi parliamo ciò che noi stiamo per chiedergli lo leggiamo insieme dice così la parola di Dio dice ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle parole non siate dunque come loro perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate io l'ho sottolineato in rosso perché ho detto Signore grazie perché tu già conosci le cose di cui ho bisogno lo sappiamo Signore grazie quant'è importante sapere che quello che noi possiamo chiedere dobbiamo chiedere e che il Signore ci insegna di chiedere dobbiamo avere la consapevolezza che Dio già conosce la nostra preghiera il Signore sa le cose di cui noi abbiamo bisogno ma quanto fratelli pensavo quanto è difficile a volte perché quando siamo nell'abbondanza e quando siamo in piena salute ci viene più facile realizzare che Lui sa già le cose di cui noi abbiamo bisogno ma quante volte invece ci troviamo in difficoltà e allora forse ci chiediamo ma Signore è proprio vero che Tu sai le cose di cui io ho bisogno e pensavo alla storia di Lidia vi ricordate quando è stato operato ha subito un intervento chirurgico in America io quel giovedì eravamo in macchina con Franco e col pastore Filippo stavamo venendo alla celebrazione e il pastore Filippo ricevette una telefonata dall'America dove il chirurgo il primario che c'era in America disse al pastore Filippo che non c'era più tempo da aspettare e che Lidia doveva entrare in sala operatoria immediatamente è chiaro che poi Franco ritornò a casa portò il pastore Filippo che prenotò il primo volo e andò subito in America allora il pastore Filippo avrebbe potuto chiedersi ma Signore ma è proprio vero che Tu sai le cose di cui ho bisogno ma non era meglio che non avesse nulla e se proprio doveva avere qualcosa non era meglio che ci fossi anche io lì però io vi dico che tutto ciò di cui Lidia aveva bisogno ce l'aveva già era il Signore il chirurgo dei chirurghi stessa cosa per mia moglie Signore quando abbiamo fatto l'ecografia quando abbiamo fatto l'attacca il risponso fu un cancro al terzo stadio e i medici ci dicevano che era un punto di non ritorno ma Signore è proprio vero che Tu sai le cose di cui noi abbiamo bisogno io vi posso assicurare che di tutto avevo bisogno tranne che nella mia famiglia ci fosse mia moglie che avesse un cancro al terzo stadio quante volte noi ci chiediamo ma Signore è vero che Tu conosci ogni cosa perché quando siamo in piena salute quando siamo nell'abbondanza quando abbiamo i soldi necessari per fare ogni cosa e possiamo pagare le bollette e possiamo mettere la benzina alla macchina e non ci manca nulla e diciamo Signore è vero Tu sai proprio tutto di cui io ho bisogno ma quando invece siamo nella difficoltà a volte forse ci può venire il dubbio come il dubbio venne io ho parlato di Lidia e di mia moglie di due donne ma il dubbio venne anche ad altre due donne leggiamo questo passo di scrittura e poi chiudo Giovanni capitolo 11 Evangelo di Giovanni al capitolo 11 il dubbio venne a Marta e a Maria quando Lazzaro morì ricordiamoci che Lazzaro era amico di Gesù Marta e Maria erano amiche di Gesù e qualche dubbio passò per la testa di Marta e di Maria Giovanni capitolo 11 che dice così or c'era un certo Lazzaro di Betania il villaggio di Maria e di Marta sua sorella il quale era ammalato or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore gli asciugò i piedi con i suoi capelli e suo fratello Lazzaro era ammalato le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù Signore ecco colui che tu ami è ammalato qui anzi possiamo commentare che non era neanche necessario immaginare che Gesù sapesse qual era il bisogno sapesse ciò di cui loro avevano bisogno perché glielo mandarono a dire quindi sapevano esattamente che Gesù sapeva ciò di cui loro avevano bisogno lo mandarono a chiamare era necessario che Gesù fisicamente si portasse in quel luogo per dare manforte per dare aiuto al loro fratello che era gravemente malato le sorelle dunque gli mandarono a dire Gesù Signore ecco colui che tu ami è malato ti stiamo informando a scanso di equivoci non vorremmo che tu non sappia le cose di cui noi abbiamo bisogno e allora noi gliele facciamo sapere al Signore attraverso le nostre preghiere e noi diciamo Signore io ho bisogno di questo di questo e di quest'altro ma poco fa abbiamo letto che Egli sa le cose di cui noi abbiamo bisogno e molto spesso nell'adorazione noi già riceviamo le cose di cui abbiamo bisogno il problema è che molto spesso i figlioli di Dio rinunciano ad adorare il Signore perché ogni volta che entrano in relazione col Signore incominciano a fare la lista della spesa oh Signore io ho bisogno di questo ho bisogno di questo ho bisogno di quest'altro no noi dobbiamo dire Signore io ti lodo Signore io ti adoro Signore tu sei il mio Dio Signore io ho bisogno di te tu sai le cose di cui ho bisogno la Chiesa deve incominciare ad imparare nuovamente ad adorare il Signore meno richieste più adorazione quando tu adori il Signore sai già le cose che riceverai perché il Signore dice che lui conosce le cose di cui tu hai bisogno ma qui Marta e Maria nel dubbio lo mandano a chiamare te lo facciamo sapere noi ciò che abbiamo bisogno abbiamo bisogno che tu fisicamente ti trasferisca da noi perché forse ti avvisiamo che forse ci sarà un miracolo che tu devi fare e lo mandarono a chiamare e Gesù al verso 4 udito ciò disse questa malattia non è a morte ma per la gloria di Dio affinché per essa per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato alleluia la nostra la nostra offerta e le nostre decime sono per la gloria di Dio la nostra elemosina è per la gloria di Dio la nostra preghiera è per la gloria di Dio ma adesso scopriamo che anche la nostra malattia è per la gloria di Dio ma Signore ma tu conosci veramente le cose di cui ho bisogno come poteva essere che la malattia di mia moglie poteva essere per la gloria di Dio alleluia abbiamo testimoniato abbiamo lodato abbiamo adorato abbiamo ringraziato è tutto per la gloria di Dio questa malattia non è a morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro attenzione come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era ma Signore ora dico ho capito che tu sei il figlio di Dio ho capito che tu compi miracoli ho capito che mi devo fidare di te però dico se io ti ho chiamato se io ti sto pregando se io sto avanzando la mia preghiera e ti sto dicendo in maniera minuziosa perché è questo che a volte noi facciamo quando noi preghiamo noi mettiamo i paletti alla preghiera perché Dio deve fare esattamente quello che diciamo noi lo deve fare nel modo come lo diciamo noi e lo deve fare nei tempi come lo diciamo noi Signora opera così 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 e così e il Signore dice mi devi dire altro devo venire proprio subito perché tu non hai fiducia che io sono il Signore della vita anzi io sai che faccio per dimostrarti che io conosco le cose di cui tu hai bisogno sto qui altri due giorni in modo che ti mostro che io conosco il tuo cuore conosco le tue esigenze e tu ti devi fidare pienamente in quello che io ho deciso di fare Signore allontana da me questo calice ma non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta Amen e questa è la preghiera del nostro cuore Signore io non lo so come tu opererai nella mia vita ma una cosa la so che tu opererai e come quello che tu farai sarà perfetto per la mia vita perché tutto coopera al bene per coloro che amano Dio andiamo al verso 11 e gli disse queste cose poi aggiunse il nostro amico Lazzaro dorme ma io vado a svegliarlo ricordiamo le parole di Marta quando Marta disse Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto come dire Signore a me è venuto il dubbio che tu sapessi veramente le cose di cui io avevo bisogno e queste furono le stesse parole che Maria ripetea a Gesù nel momento in cui lo vide gli andò incontro e disse esattamente le stesse cose io ho il dubbio che tu veramente sappia le cose di cui io ho bisogno perché quando ti abbiamo mandato a chiamare quando avevamo bisogno di te tu non sei venuto quindi evidentemente tu parzialmente potevi portarci aiuto perché non sei venuto nei tempi giusti ma la mia domanda è quali sono i tempi giusti i nostri o quelli del Signore ricordiamoci che Gesù disse questa la malattia non è a morte ma è per la gloria di Dio perché Marta aveva dei dubbi e non aveva le idee chiare Maria aveva dei dubbi e non aveva le idee chiare ma le idee di Gesù erano chiarissime lui sapeva esattamente cosa doveva fare e se noi abbiamo piena fiducia in Gesù anche le nostre idee devono essere chiarissime non possiamo e non dobbiamo minimamente dubitare che quando egli fa una cosa la fa sempre a nostro favore perché la parola di Dio dice che egli ha pensieri buoni di pace per noi per darci un futuro è un avvenire tutto ciò che lui fa per noi è sempre buono anche quelle cose che apparentemente noi non riusciamo a comprendere passiamo da un percorso passiamo da una strada difficile e ci viene il dubbio Signore forse in questa occasione tu veramente non sapevi che io avevo bisogno di te ma avevo bisogno di te ieri no noi abbiamo bisogno di Dio ieri oggi e domani perché possiamo realizzare e dobbiamo dichiarare Signore io senza di te non posso fare nulla dobbiamo dichiarare Signore io ho bisogno di te e gli disse queste cose poi aggiunse il nostro amico Lazzaro dorme ma io vado a svegliarlo aveva le idee chiare verso 17 arrivato dunque Gesù trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro e certo era rimasto lì dove era aveva temporeggiato lo trovò già morto al verso 21 dice Marta allora disse Gesù Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo farà attenzione alla risposta di Gesù Gesù le disse tuo fratello risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno Marta gli disse lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno non aveva ben capito le parole che Gesù gli stava per dire e Gesù disse io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me anche se fosse morto vivrà alleluia abbiamo cantato poco fa io non morirò anzi vivrò per celebrare il nome del Signore perché la nostra vita è una vita che celebra il nome del Signore la nostra vita è una vita che dà gloria a Dio la nostra vita è una vita che proclama il nome di Gesù sempre e comunque sia quando egli fa le cose che noi ci aspettiamo che faccia e sia anche quando lui fa le cose che apparentemente secondo noi sono difficili da comprendere ma siccome abbiamo piena fiducia in lui sappiamo che egli sta operando sempre per il nostro bene io sono la risurrezione e la vita chiunque crede in me anche se fosse morto vivrà e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno credi tu questo? alleluia questa domanda viene posta a ognuno di noi fratello sorella credi tu che Gesù è la risurrezione e la vita? credi tu che se anche morirai tu non morirai mai perché stai già vivendo la vita eterna? credi tu che se anche ci sono difficoltà malattie un problema mettilo ai piedi del Signore attenzione fratelli la ragione era che Lazzaro era morto ma la ragione cozza non va mai a favore della fede non pensare mai che la ragione possa alimentare la fede perché la fede è basata sul figlio di Dio questo non significa che se noi abbiamo un problema dobbiamo fare finta di nulla dobbiamo fare come lo struzzo che si nasconde la testa sotto la sabbia e non possiamo non dobbiamo prendere coscienza di un problema di salute che magari abbiamo no, noi lo possiamo sapere sai perché lo possiamo sapere? perché abbiamo le idee più chiare su quello che il Signore deve fare nella nostra vita noi realizziamo che abbiamo un problema ma sappiamo anche che Gesù ci ha promesso io ti dico che io sono la resurrezione e la vita e se anche tu morirai tu vivrai perché io l'ho promesso la pietra era davanti al sepolcro Lazzaro era già morto da quattro giorni ma Gesù disse togliete via la pietra alziamoci e invito il gruppo Loda a salire di nuovo togliete quella pietra perché io che sono la resurrezione e la vita la morte non mi può resistere all'inizio Chiara ha letto un meraviglioso passo di scrittura dove dice oh morte dov'è il tuo dardo oh inferno dov'è la tua vittoria la vittoria è del nostro Dio che ci ha dato vita e vita abbondante amen noi sappiamo che Egli sa Egli conosce tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno faccio un'ultima domanda a me e faccio un'ultima domanda a te e dico cosa hai bisogno cosa hai di bisogno Gesù una volta chiese a qualcuno vuoi che io ti guarisca cosa hai di bisogno la risposta poteva essere ma signore io sono cieco dalla nascita e tu mi chiedi se io ho bisogno di guarigione io sono paralitico da quando sono nato e tu mi chiedi se io voglio essere sanato salvato guarito signore noi siamo qui per adorare il tuo nome adesso adoreremo il nome del signore e nell'adorazione ricordati che Dio sa le cose di cui hai bisogno adora il nome del signore puoi anche evitare di fare delle richieste perché egli sa già le cose di cui hai bisogno ma nell'adorazione c'è piena salute nell'adorazione c'è piena salvezza c'è piena liberazione qual è il tuo problema stai aspettando una liberazione tua personale o di qualcuno che ti è molto caro adora il signore la liberazione arriverà c'è bisogno che il tuo corpo sia sanato tuo personalmente o di qualcuno che ti è molto caro adora il signore perché nell'adorazione sarà piena guarigione amén alleluia adoriamo il signore con tutto il nostro cuore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti